Squadra Terun Scalea, un progetto che nasce dalla voglia di portare la nostra zona, il nostro mare, i nostri monti in giro per il mondo. E' così che si uniscono i valori che ci lega me, Franco, Maiko, due fratelli, che hanno accolto e hanno abbracciato il nostro progetto in sintonia con la squadra San Francisco in California, San Francisco Terun, da loro pubblicizzata con il loro locale e diventa anche lo sponsor principale della nostra squadra, squadra Terun Scalea. Questo nome, che una volta era un dispregiativo, ora sarà il fiore all'occhiello per quanto riguarda Scalea, per quanto riguarda la Calabria. Insieme, uniti in un solo obiettivo, pedalare, portare la nostra bellezza attraverso il cicloturismo in giro per il mondo. Questo è il nostro unico obiettivo.